Professoressa Mirano, coordinatrice della Scuola dell'Infanzia di Piazza Roma, la vostra scuola non fa soltanto incontri con i professionisti, ma è anche candidata alla Bandiera Verde per l'ecosostenibilità. Di che cosa si tratta e come si è svolto questo progetto, come si sta svolgendo? Allora, questo progetto si svolge grazie al Comune di Impedia, che ci ha sostenuto in questa avventura. Siamo candidata alla Bandiera Verde, in questo plesso si insegna ai bambini a riusare, a riciclare, quindi a sostenere l'ambiente. Un argomento che interessa tantissimo sia i genitori che i bambini, infatti sono stati disponibili i genitori ad aiutarci, a procurarci le scatole del latte, le scatole delle uova. In questo caso abbiamo usato per creare questo plastica. A scuole i bambini riciclano, riciclano la carta, riciclano la plastica, quindi sanno e comunicano anche ai genitori di come vanno trattati i rifiuti e di questo siamo contentissimi, anche perché fin dalla teneretà i bambini devono imparare queste regole che servono appunto per far sì che il nostro pianeta sia più pulito.